Come smettere di vomitare? Nel video Vomitare dopo aver mangiato ho mostrato una cosa fondamentale. Spesso vomitare è un disturbo a sé, tanto che in terapia strategica si parla di disturbo da vomiting. Altre volte un corollario all'anoressial bulimia, ma si è ormai trasformato in un comportamento consolidato. In questi casi comunque va trattato prima, ma come si fa? Esistono tanti modi diversi per affrontare il problema e trattarli tutto in un video sarebbe un po' confusivo, però una tecnica posso descriverla. Si chiama tecnica dell'intervallo ed è una strategia elaborata da Nardone. Mi piace perché è semplice ed elegante, perché se funziona te ne accorgi subito. La tecnica è davvero semplice, ma prima di applicarla ti devi ricordare una cosa. Le tecniche devono avere senso per il tuo cliente. Che significa? Significa che per renderla ancora più efficace, per assicurarti che venga eseguita, devi fare una cosa. Persuadere la persona che quella è una strada da seguire. Questo puoi farlo, ad esempio, utilizzando delle domande che la indirizzano a comprendere che le cose che sta facendo in realtà non sono funzionali. Ad esempio? Ad esempio il suo tentativo di trattenersi dal vomitare, oppure del trattenersi dalla buffata che precede al vomito. Facendone notare che nessuno dei tuoi comportamenti funziona davvero, e magari facendolo con un linguaggio suggestivo, evocativo, è molto più probabile che accetti di eseguire la tecnica che ti sope spiegare. Inoltre ti invito a leggere libri come Le prigioni del cibo, o al di là dell'odio e dell'amore per il cibo, che permettono di comprendere meglio come funziona questa tecnica e tutto quello che c'è attorno. Ma veniamo alla tecnica dell'intervallo. Molto semplicemente si chiede alla persona di continuare ad abbuffarsi o a mangiare come fa di solito, ma con una eccezione. Dopo aver mangiato dovrà predisporre una sveglia, affinché suoni dopo un'ora. In quell'ora non deve assolutamente vomitare. Può fare tutto ciò che vuole, ma niente vomito. Passata l'ora, se vuole può andare in bagno e vomitare, nessuno glielo impedirà. Generalmente nella seduta successiva la persona torna già con un'estrema riduzione dei compiti di vomito autoindotto. Nelle sedute successive che dovrai fare? Dovrai quindi aumentare l'intervallo di tempo tra la mangiata e il vomito. La prima volta svegliato da suonare dopo due ore, poi dopo tre ore, poi dopo quattro ore e così via. In realtà velocemente vi renderete in conto, entrambe, che la persona smetterà molto rapidamente di vomitare. Parallelamente allora dovrai fare altre due cose. Se il vomito era l'unico comportamento su cui ormai andare a lavorare, bene, non ti resta che andare a aumentare anche la distanza tra una seduta e l'altra. Questo permetterà un consolidamento dei risultati ottenuti e darà la prova provata alla persona che riesce a mantenere l'equilibrio nuovo funzionale anche nel tempo. Se invece effettivamente c'era un comportamento alimentare inadeguato sottostante, come un'anoressia, una bulimia, oppure un modo di percepire il mangiare, la nutrizione, il dimagrimento, le diete, eccetera, disfunzionali, allora ecco che dovrai andare a lavorare su quelli a quel punto. Poi altre volte la persona potrebbe ricadere nel comportamento di vomito. Perché? E perché possono essere davvero tanti, a volte semplicemente sono delle fisiologiche ricadute, basta continuare con la tecnica per vedere dei miglioramenti, però spesso c'è una spiegazione apparentemente strana. Il vomito era diventato un grande piacere, di cui la persona fa davvero fatica a fare a meno. Posto che un'indagine del ruolo del piacere nella vita di questa persona può essere interessante, anche se devi evitare di fare un lavoro psicodinamico, a meno che non sia questo il tuo lavoro di base, dovrai essere abile a farle notare che quel demone seduttore in realtà è uno spettro terrificante. Coercitivamente la induce in un comportamento che la incatena ad un infausto destino. Qui sono capacità comunicative, noi facciamo anche apposta nella nostra scuola di specializzazione proprio dei lavori sulla comunicazione, perché è una colonna portante della terapia breve, però insomma allenati in questo. Come detto, la tecnica è davvero utile in una gran quantità di casa, però dovrai saperla presentare a dovere. In altre parole, se il desiderio di smettere è insito nella persona che si presenta a studio da te, il tuo lavoro rimane comunque quello di tirarglielo fuori.